Mary Lee, we roll along, ok, pagina 12, vado quello sotto, Silver Moonlight, uno, due uno, due l'ultimo è Little Tune, sempre pagina 12 uno, due provo a avvicinare, inquadriamo qua, bravissima allora questa è una pausa che dura due battiti, d'accordo? questo è quel mattoncino e l'ultima cosa voglio dirti, provo a inquadrarle, benissimo quando facciamo il sì teniamo questo dito piegato perché altrimenti diventa un po' non così e neanche un po' troppo in alto il dito piegato a posto, ciao ciao ciao